Anche a Pescara il leader di azione Carlo Calenda per presentare il suo libro evento che diventa naturalmente elettorale con gli interventi del deputato abruzzese Giulio Cesare Sottanelli e il candidato dalla presidenza della regione Abruzzo per il centro-sinistra e Movimento 5 Stelle Luciano D'Amico. Temi e argomenti trattati da quello delicato della salute e sanità. La sanità è la prima emergenza in Abruzzo come del resto in tutta la nazione perché quando una regione paga 100 milioni di euro ad altre regioni per far curare i suoi cittadini vuol dire che si è al collasso e la prima cosa da fare a livello nazionale come noi proponiamo da quattro anni è di mettere ogni euro disponibile sulla sanità perché noi siamo un paese di anziani che non si possono curare e dall'altro lato quello che noi diciamo è che le nomine a livello regionale di chi gestisce la sanità vanno fatte con un concorso pubblico fatto sul merito le capacità e non politicizzate e io credo che oggi Luciano D'Amico ha dimostrato di essere capace di farlo, lo ha fatto nell'azienda di trasporti, l'ha fatto come rettore dell'università di Teramo che ha portato ad essere la seconda in Italia e se i cittadini come dovrebbero votano sulla base delle competenze beh io credo che non c'è la partita in questa regione. In platea tanti amministratori e politici del centro-sinistra abruzzesi, la società civile e Carlo Costantini candidato sindaco di Pescara espressione di azione capace di fare sindesi e polo di attrazione per il centro-sinistra Movimento 5 Stelle civiche. Sono molto contento anche in questo caso Costantini ha esperienza amministrativa che il problema dell'Italia e dei comuni e delle regioni è che le persone possono essere di destra e di sinistra ma non riescono a far accadere nulla persino non riescono a spendere i soldi come vediamo col PNRR dunque l'unico modo di cambiare la politica in Italia e mettere persone che abbiano esperienze gestionali e amministrative rilevanti.